Gentili telespettatori, buona giornata. Viene firmato il DPCM sulla pubblica amministrazione dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sì, DPCM, avete sentito bene, è quei decreti che può fare il Presidente del Consiglio durante lo stato di emergenza. Quindi DPCM, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, sono dei decreti che può fare il Premier da solo, senza l'autorizzazione dei ministri, il via libera del Consiglio dei Ministri, senza passare dal Parlamento. Quindi dal 15 ottobre, in questo DPCM di Draghi, i lavoratori del pubblico impiego tornano tutti al lavoro. Quindi torneranno in ufficio dal 15 ottobre tutti. La decisione è stata presa proprio da Mario Draghi, che ieri, 24 settembre 2021, ha firmato un apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quello che utilizzava sempre Giuseppe Conte, i DPCM. Nel testo viene precisato che la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza. Il piovedimento chiarisce che le pubbliche amministrazioni assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza nel rispetto delle misure anti-Covid. Era stato il Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, ad annunciare che quello che chiamavano in inglese lo smart working, perché voi lo sapete, se noi non parliamo in inglese non siamo nessuno, vero? Anche la politica deve inchirsa a vucca, riempirsi la bocca di tutte queste parole in inglese. Abbiamo una bellissima lingua che è l'italiano, lo smart working, ma va là lo smart working, sarebbe il lavoro da casa, lavorare da casa, fa così schifo dire il lavoro da casa? Vabbè, comunque il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta ad annunciare che il lavoro da casa sarebbe stato ridotto al massimo al 15% dopo l'approvazione del decreto che impone l'obbligo di Green Pass, anche qui, smart working, Green Pass, lascia passare, certificazione, è un certificato, questo lascia passare è un certificato che attesta o l'avvenuta vaccinazione o l'avvenuto tampone, quindi è un certificato che ha la funzione di lascia passare. Bene, dicevamo che Renato Brunetta annuncia che è la fine del lavoro da casa per gli statali, che al massimo se saranno ancora un 15% dopo l'approvazione del decreto che impone la certificazione per tutti i lavoratori e questo provvedimento rende possibile la riorganizzazione negli uffici. Il primo passo sarà la riapertura degli sportelli aperti al pubblico che adesso sono stati invece nella maggior parte chiusi, prevedendo soltanto la possibilità di usufruire dei servizi su prenotazione, proprio per evitare che si creino assembramenti e code. Nei giorni scorsi il ministro Brunetta aveva annunciato al Festival del Foglio che tra un mese per la prima volta ci sarà un vero contratto per il lavoro agile, ci vorrà un pacchetto organizzativo parallelo al lavoro in presenza sul lavoro da remoto. Adesso si chiama il lavoro agile, io lavoro da casa che sono agile, mentre scrivo l'email faccio anche il sugo. Bene, il lavoro agile, quello molto così, dovrebbe essere limitato solo ai processi e attività di lavoro previamente individuati dalle amministrazioni per i quali sussistono i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Secondo una bozza condivisa il 15 settembre scorso dall'Aran ai sindacati, l'accordo sul lavoro da casa sarà individuale e andranno concordati la durata, le giornate di lavoro a distanza, il luogo di lavoro che non potrà essere al di fuori dei confini nazionali. Se no uno dice, beh, io lavoro per il comune tal dei tali ma vivo alle Maldive, immaginatevi, oppure me ne vado in vacanza ogni 15 giorni, però io lavoro... ecco. Il tempo di lavoro potrebbe essere diviso in tre fasce, operatività, contabilità e inoperabilità e durante quest'ultima il lavoratore avrà diritto alla disconnessione completa. Quindi tu sei nella fase di operatività, sei operativo, c'è una sorta di orario di lavoro, poi ci sarà un'altra fascia di orario dove sei contattabile. Non mi disturba affatto, un po' come Verdone, quando si va a sposare che risponde al telefono, non mi disturba affatto, mi dica. Ecco, quindi l'operatività, la contattabilità e poi l'inoperabilità. Quindi in questa inoperabilità c'è la disconnessione completa, stai dormendo, stai facendo i fatti tuoi, quindi il lavoro da casa non puoi essere reperibile 24 ore. Ecco, l'accesso al lavoro agile, come lo chiama Brunetta, dovrebbe essere facilitato perché si trova in determinate condizioni, come genitori con figli minori di tre anni o disabili o lavoratori con disabilità. Bene, quello che faceva presente Brunetta è che dice beh, ho capito che il lavoro da casa della pubblica amministrazione è stato fatto all'italiana. Ecco, con quello ci siamo capiti. Molti cittadini si sono lamentati che si può solo fare via telefono, si può pronotare via telefono, telefona, telefona o non risponde nessuno o impossibile contattare qualunque ufficio. Quindi, io sono d'accordo con Brunetta che la cosa migliore è il ritorno in ufficio, in presenza, in presenza. La gente si è abituata a stare a casa, no? Stipendio, stare a casa, il computer lì acceso mentre tu ti stai guardando un film di fantozzi, mentre hai messo sul sugo, poi c'hai l'email sul cellulare, quindi sei magari in spiaggia con il cellulare bip bip, ti avvisa che è arrivata un'email, tu sei lì o rispondi al telefono. Insomma, è una bella cosa il lavoro da casa, ma anche i suoi risvolti negativi che potete assolutamente immaginare. E poi il contatto personale visivo con le persone è un'altra cosa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti.